Per celebrare i primi dieci anni di attività, la Fondazione di Agostini ha ideato e realizzato un progetto che tocca un tema di grande attualità, la rigenerazione urbana di zone periferiche e problematiche della città, per ricreare un tessuto sociale vivo e coinvolto nella gestione degli spazi pubblici. In collaborazione con il Comune di Novara, la Fondazione ha così valutato alcune opportunità di intervento in quartieri periferici, scegliendo l'area verde di Sant'Andrea. Il quartiere esprimeva un bisogno concreto di riconnessione al tessuto urbano, che il progetto della Fondazione di Agostini ha deciso di valorizzare. La terza fase ha visto la trasformazione delle proposte emerse nei tavoli di lavoro con i cittadini e le associazioni. La firma del patto ha rappresentato una tappa importante del percorso partecipativo, al fine di mettere in atto attività di animazione, salvaguardia e cura sociale del parco e la sua appropriazione da parte della comunità. L'augurio è che il parco diventi il simbolo del rilancio delle periferie, che sia uno spazio di aggregazione e di divertimento e che costituisca un modello di successo, replicabile in altri quartieri e in altre città. Grazie 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 Grazie